Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di monete di valore. In questo video vedremo come è fatta e quanto vale la 2€ dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Nel video vedremo la versione fondo specchio, ma ti parlerò anche della versione che puoi trovare in folder e anche della busta filatelico numismatica. Vediamo un attimino come è fatta la moneta e poi parliamo anche del suo valore. Ma prima di iniziare ti ricordo di cliccare mi piace se non lo hai ancora fatto e di iscriverti al mio canale in modo tale da non perdere i miei prossimi video. Bene, questa moneta è stata coniata dalla Zecca di Roma per conto della città del Vaticano nel 2017. Come già detto questa moneta è stata coniata per celebrare i 1950 anni dell'anniversario del martirio dei Santi Pietro e Paolo. Questa è come si presenta la versione fondo specchio della moneta. Una scatola semplicissima al cui interno è presente il classico cofanetto del Vaticano. Colore abbastanza carino, scatoletta molto molto elegante. Apriamo e vediamo come è fatta la nostra moneta. Innanzitutto vi ricordo che è presente come sempre il certificato, che è un certificato di garanzia. Prendiamo la nostra moneta, capsula grande come quelle che adoro, e vediamo quanto sia bella questa moneta. I riflessi, come al solito, sono dovuti in parte alla capsula, ma sono dovuti soprattutto dal tipo di lavorazione di questa moneta, che essendo una a fondo specchio mette in risalto tutti i dettagli e soprattutto l'immagine principale. Per quello che riguarda ciò che è raffigurato sulla moneta, troviamo i Santi San Pietro e San Paolo e poi i rispettivi segni, ovvero a sinistra troviamo le chiavi e a destra troviamo la spada. In alto è presente la scritta Città del Vaticano, mentre sotto è presente la scritta 1950 che sta per l'anniversario del martirio dei Santi Spietro e Paolo. Troviamo poi l'anno di coniezione, che è il 2017, e la lettera R che indica la Zecca di Roma. Infatti, anche se la moneta è stata coniata per conto della Città del Vaticano, in realtà viene coniata dalla Zecca di Roma, quindi dalla Zecca italiana. Sotto troviamo due firme, che sono dell'autore di Totto e di Silvia Petrassi. Ruotiamo la nostra moneta, giusto per far vedere che si tratta di una classica moneta da 2€, che però, ripeto ancora una volta, ha i fondi a specchio. E infatti vediamo proprio il risalto, la scritta 2 e la mappa dell'Europa, e poi il fondo, che praticamente sembra davvero uno specchio. Cos'altro dire? Iniziamo a parlare di tiratura e di valore di questa moneta. Questa è, in tutti gli effetti, una moneta davvero molto molto difficile da reperire, un po' in tutte le sue versioni, ecco. Parliamo di una moneta che ha una tiratura complessiva di 98.000 esemplari. Questi 98.000 esemplari dobbiamo dividerli. Allora, innanzitutto non è una moneta che troveremo in circolazione. Quindi, se mai dovessimo avere la fortuna di trovare questa moneta in circolazione, molto probabilmente sarà stato per errore del precedente proprietario, oppure, magari, come è successo già altre volte, potrebbe essere una moneta che magari è stata rubata, magari un furto, e qualcuno, non sapendo che si trattava di una moneta da collezione, l'ha utilizzata e messa in circolazione. Questa è una cosa che può sembrare strana, ma in realtà è già successa con diverse monete in passato, quindi potrebbe essere successo anche con questa moneta. Però, ti ripeto, questa moneta non è stata coniata per la circolazione. Esistono 80.000 monete confezionate in folder, che sono monete in fior di conio, e ad oggi le quotazioni di mercato oscillano tra i 29 e i 30 euro. Esiste poi una busta filatelico-numismatica, così è una busta filatelico-numismatica, è una sorta di cartolina, possiamo dire così, dove è presente sia la moneta da 2 euro in fior di conio, che due francobolli speciali commemorativi. In questo caso troveremo un francobollo da 95 centesimi e un altro francobollo da 1 euro. La busta filatelico-numismatica ad oggi viene venduta intorno ai 60 euro, e di questa ne esistono 8.000 esemplari. Passiamo poi all'ultimo pezzo, ovvero questo, la versione cofanetto e la moneta in fondo specchio. Di questa moneta esistono solo 10.000 esemplari, quindi moneta molto molto difficile da trovare. Come potete vedere è una moneta davvero molto molto bella, e il valore attuale di mercato oscilla tra i 90 e i 95 euro. Qualche mese fa il valore era leggermente più alto, siamo arrivati anche oltre ai 100 euro, però poi a causa della crisi generale che sta attraversando il mercato del collezionismo, il prezzo si è un tantino ridimensionato e adesso siamo tornati a una cifra un po' più accettabile, quindi 90-95 euro per questa moneta è un prezzo più che accettabile, proprio perché esistono solo 10.000 esemplari e la moneta è davvero molto molto bella. Chi la ha fa davvero fatica a rivenderla proprio perché, come potete vedere, è davvero molto bella. Poi le monete del Vaticano, secondo me, secondo il mio parere personale, sono davvero molto molto belle. Fammi sapere se hai questa moneta in collezione, fammi sapere se ti piacerebbe averla, fammi sapere se hai la versione fondospecchio, se hai la versione in folder, o magari se hai la busta filatelico-numismatica. I collezionisti delle buste filatelico-numismatiche sono davvero pochi, ma sono molto molto carine da avere. Io ne ho vista qualcuna di persona e sono veramente carine. L'unico mio è che la moneta è in fior di conio e io amo le fondospecchio. Bene, con questo credo che non ci sia altro da dire. Non mi resta che augurarti una buona giornata, buon collezionismo e di ricordarti di cliccare mi piace e se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al mio canale per non perdere i miei prossimi video. Dimenticavo l'ultimissimissima cosa? Nei link in descrizione troverai anche il mio canale Telegram, se vuoi puoi seguirmi anche da lì. Un saluto a tutti, ciao!